Palla basta per Meggiorini che prova lo spunto su Cassetti, Cassetti finisce per terra, Meggiorini non riesce a passare perché Cassetti da terra, di fatto tipo bruco, si muove lì per terra e mette la palla in calcio d'angolo. Sì, veramente grande presenza di spirito di Cassetti che ha strisciato sul campo e ha tolto. Ha messo la palla in calcio d'angolo. Era caduto, ha rimediato da terra.